Con il piano sul palco, quello su cui ha suonato ed insegnato il maestro Arturo Benedetti Michelangeli, l'amministrazione comunale di Arezzo presenta la riapertura del Teatro Petrarca. Il 16 dicembre 500 e poco più fortunatissimi spettatori assisteranno alla rinascita culturale di Arezzo con il concerto di Marta Argerich, Daniele Rivera e Gabriele Baldocci. Abbiamo concordato con questa grande artista, la data, abbiamo dovuto rifarci al suo calendario e non c'era data diversa da questa da poter proporre. Il fatto, questo sì, che ha voluto il sindaco che fosse un evento legato alla musica, legato al pianoforte, legato al nome di Arturo Benedetti Michelangeli, questo è fortemente voluto dall'amministrazione. La Argerich suonerà proprio su quel Steinway & Sons Gran Coda che Michelangeli usava per i corsi di perfezionamento agli aretini negli anni 50. Due ore di concerto circa per quello che si annuncia uno degli eventi musicali più importanti nel panorama internazionale. Il programma, dunque, è Brahms e variazioni sul tema sul corale di Sant'Antonio di Haydn, poi ci sarà la wals di Ravel, la versione per due pianoforti dello stesso Ravel, dello stesso compositore. Poi ci saranno la suite 1 e 2 di Rachmaninov, il poema sinfonico Le Prelude di Franz Liszt e Scaramouche di Darius Mio. I posti per i semplici cittadini saranno soltanto 200, i biglietti saranno acquistabili nella biglietteria del Teatro Petrarca, che riaprirà il 30 di novembre. Per tutti gli altri, forse, una diretta streaming e inoltre la possibilità ancora da confermare di prove aperte. Sì, è il maestro Ribera che ha dato questa apertura importante, naturalmente nei limiti e nei vincoli che Marta Argric ci vorrà imporre, ma non è impossibile che ci siano anche delle prove aperte per i cittadini che non riusciranno a comprare il biglietto per la serata inaugurale del 16. Quindi dai giorni precedenti ci saranno le prove, ma anche delle prove aperte, forse anche per le scuole. Vediamo un po' come riusciamo a organizzare. Dopo il 16 dicembre a gennaio partirà la stagione di prosa, il cartellone è già pronto, mentre per il futuro il sindaco pensa ad un utilizzo anche aperto a congressi e convegnistica.